Riesce l'essere tra un paniere amato il campo per Riaz e De Bruyne di Giugnaccia. La Faiette ha il suo terzo fallo, 2-0, 2-0. Riaz e De Bruyne di Giugnaccia. 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 Abbiamo giocato una partita accettabile per 23-24 minuti, rimanendo attaccati alla partita in tutti i modi. Poi devo dire che in questo momento per noi il livello fisico al quale gioca Milano è difficile da sostenere. Milano ha cominciato a difendere fortissimo e noi ci siamo disuniti nel modo di giocare in attacco e soprattutto perdendo anche riferimenti in difesa. Abbiamo perso troppi palloni con questa Milano. Abbiamo perso tanto a rimbalzo, che purtroppo è un limite che abbiamo da inizio stagione. E soprattutto questo è uno sport dove bisogna far canestro. e noi troppo spesso abbiamo sbagliato tiri aperti, costruiti secondo me anche in maniera buona. Però ripeto, a livello fisico Milano in questo momento ci è stata decisamente superiore. Noi abbiamo tanti giocatori che purtroppo non stanno bene. Dobbiamo adesso lavorare, scordarci questa partita per il tesoro degli errori, voltare pagina e rimboccarci le maniche senza fare tanti discorsi e metterci a lavorare in vista della prossima partita che per noi è una partita molto importante. Complimenti naturalmente a Milano che ha vinto la partita con grande merito e ha tratti anche dominato. Comunque Abbiamo giocato una partita discreta sapendo prima della partita dove dobbiamo trovare i nostri vantaggi prima di tutto perché siamo una squadra molto più fisica e in ribalto da tutte e due parti del campo. Abbiamo fatto bene queste due cose e sicuro ci hanno aiutato per vincere questa partita abbastanza facile. sicuro più facile che abbiamo vinto di uno con l'ultimo tiro spendendo tante energie mentali. Il nostro modo di giocare è quello. Solo così possiamo giocare. Avete visto oggi dopo 23 minuti è stato solo più 3, 24 minuti ma abbiamo aumentato l'aggressività in difesa si è cambiato tutto. Voglio dire noi domani uguale contro una squadra che onestamente nessuno può dire che è sorpresa perché divide primo posto in campionato ha eliminato oggi una squadra come Sassari è una realtà, diciamo così, non sorpresa e dobbiamo stare attenti, preparare la partita bene l'avversario conosciamo, abbiamo già giocato una volta contro loro una squadra che sa stare sul campo una squadra veramente benissimo allenata e ci vuole un'altra prova come oggi.